Buona Pasquetta! Arrivato il momento di aprire il cioccolato della Lind che mi ha regalato mio marito Non so quanto costa, so che è 360 grammi ed è al pistacchio Eccolo qui! Lo apriamo subito Ok, è arrivato il momento dell'apertura Olè! Dentro è verde al pistacchio e c'è nel tocco il regalino E' un anello! E' un anellino di bigiotteria Adesso assaggiamo l'uovo! Ma schifo! E' contenta così con l'uovo? Ve lo aspettavo! Allora, è buonissimo perché è il cioccolato Lind Ma non sento il pistacchio! Si sente il cioccolato, il dolce Ma la crema qua non sembra assolutamente il pistacchio Per quello che sono un po' ni E' un po' ni